Bella Gazzettari, ben ritrovati in un nuovo episodio della Gazzetta MMA, di che cosa parliamo oggi ragazzi? Oggi parliamo delle dichiarazioni del campione dei Federer, Volkanovski, in seguito a praticamente l'annuncio, all'ufficialità che il prossimo incontro per la cintura dei leggeri sarà tra Charles Dobronx-Olivera e Islam Makachev a ottobre ragazzi. Volkanovski che cosa ha detto? Fondamentalmente ha detto e si è spostato questa volta in maniera inequivocabile dichiarando le sue intenzioni in maniera totale, ha detto di volere il vincitore di questo incontro che a lui non interessa fondamentalmente chi sarà il vincitore ma che indipendentemente da chi si porterà a casa la cintura lui vuole una possibilità per salire nell'Olimpo dei double champ ragazzi. Ma prima di dirvi secondo me se fa bene quali sono le conseguenze di una scelta di questo tipo nella categoria dei featherweight ma anche in quella dei leggeri e cosa soprattutto, anzi chi potrebbe essere tra i due fighter il più temibile per lo stile di combattimento di Volkanovski vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su per supportare il mio lavoro fatto di video per voi ragazzi, di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti attivando la campanella delle notifiche perché se la campanella non è attivata ragazzi è tutto inutile. Dunque allora scelta giusta o sbagliata quella di passare dai feather ai leggeri da parte di Volkanovski. Secondo me è una scelta giusta, è una scelta molto sensata perché comunque sia ragazzi c'è da dire che nella sua divisione Volkanovski ha praticamente ripulito il tutto. Sono rimasti davvero in pochi, ha battuto i top più di una volta e dunque per lui avrebbe senso a questo punto la sua carriera anche perché comunque sia gli anni incominciano ad avanzare anche per lui e secondo me adesso è nel prime totale. Avrebbe senso fare una scalata verso i leggeri anche considerando il fatto ragazzi che questo era un ometto da quasi 200 libri un tempo. Cioè era davvero enorme quindi è uno che fisicamente può crescere, non ha nessun problema da quel punto di vista. Rimane basso ma questa non è necessariamente una cosa molto negativa soprattutto considerando il fatto ragazzi che lui da fighter praticamente basso e dunque con uno svantaggio a livello di altezza è riuscito a fare il pull a tutta la sua divisione perché vi ricordo bene come vedete voi in questo momento che è riuscito a fare fuori Holloway, Ortega, praticamente davvero tutti Korean Zombie recentemente, tutti i top della division li ha fatti fuori e dunque avrebbe senso come vi dicevo un passaggio nei leggeri nei quali ragazzi andrebbe a incontrare gente tosta perché è vero che indipendentemente da chi vinca tra Oliveira e il buon vecchio Islam Makachev per lui sarà un incontro tosto, ovviamente in riferimento a Volkanowski, ma è anche vero che dal mio punto di vista sarebbe più agevole con Islam Makachev che con Charles Dobronks Oliveira perché secondo me le sottomissioni di Oliveira possono mettere in difficoltà davvero chiunque anche in un match davvero alla pari o anche in un match nel quale il brasiliano è in svantaggio, invece uno come Islam Makachev ancora ragazzi lo dobbiamo testare davvero ad altissimi livelli perché non sappiamo quanto sia completamente forte, io vi faccio vedere qui gli ultimi fighter affrontati da Charles Dobronks Oliveira e vi faccio vedere gli ultimi fighter affrontati da Islam Makachev, Charles Dobronks Oliveira negli ultimi due anni ha combattuto con Justin Gaethje, Dustin Poirer, Michael Chandler, Tony Ferguson e Kevin Lee ragazzi Islam Makachev ha combattuto con Bobby Green, Dan Hooker, Moises, insomma ragazzi vi sto dicendo anche i fighter di punta contro i quali ha combattuto Islam, questo è cosa vuole dire? Islam è scarso? No, assolutamente no, Islam è un grandissimo fighter però penso che Oliveira abbia le qualità e l'esperienza per poter mettere in difficoltà il campione, cioè vi ripeto negli ultimi cinque incontri ha davvero battuto gente tosta, ma tosta, tosta, tosta poi ragazzi c'è anche da considerare gli svolti che ci sarebbero nei feather nel caso Volkanovski scegliesse in maniera permanente di rimanere nei lightweight perché si andrebbero a liberare alcune caselle importanti, comunque Holloway, Ortega, Rodriguez avrebbero secondo me la possibilità breve di andarsi a prendere la cintura, non so se sarebbe una roba interim, non so poi se Volkanovski deciderebbe di difendere entrambe le cinture, nel caso vincesse anche quella dei lightweight e rimanesse in quella categoria, non lo so ragazzi, sta di fatto che sicuramente la strada è più agevole per i top 5 rispetto a quella che sarebbe potuto essere con Volkanovski campione. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, felici o no di Volkanovski che vuole il doppio passaggio, dunque la doppia cintura dei light e dei featherweight, con chi vedete l'incontro più agevole? Charles Dobronx-Olivere oppure Islam Akacher e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao belli!